E al Via Biancavilla, ieri la tredicina in onore dei Santi Patroni, Placido, Zenone e la Madonna delle Mosina. Questa sera nella Basilica Colleggiata, al Santuario, è stata celebrata una Santa Messa preseduta da Monsignor Leone Calambrogio, rettore in San Biagio e San Giuliano, già preside del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei e dell'Istituto di Scienze Religiose San Luca di Catania. Al termine dell'omelia è venuta la benedizione dei dirigenti scolastici e dei docenti, presenti numerosi in Chiesa Madre, ad animare la liturgia e il coro della Scuola San Giovanni Bosco di Biancavilla.